Con la Fondazione abbiamo fatto diverse cose fatte a sensibilizzare, a far capire ai ragazzi cosa succede. Poi ci è stata proposta questa idea di fare questo film e mi è apparsa molto buona, ideale per continuare questo discorso, di far capire ai ragazzi, soprattutto tuttora che dopo 13 anni quelli che i ragazzi potenzialmente pericolosi, potenzialmente in pericolo di cadere in questi atti di violenza, probabilmente questi qui allora erano piccolini, erano ragazzini 3-4 anni o magari tanti non erano ancora nati e quindi trovo molto utile farvi rivedere tutta la storia che è successa a Damiano perché altrimenti diventa una storia come tante dimenticato se ne parli così però in sé è una cosa astratta o non so che non ha un legame con la realtà. Invece così continuando a far capire ai ragazzi che queste cose sono successe qui e a persone come loro, dei ragazzi come loro, far capire sia l'aspetto della vittima ma anche del carnefice, anche loro stessi non avranno una bella vita, cioè non hanno avuto una pena grande e non hanno una bella vita perché avranno sempre questo fatto dietro loro che li condizionerà sempre secondo me. Per questo abbiamo bisogno anche dell'aiuto anche di molta gente perché con i nostri mesi non ce la facciamo, più aiuto abbiamo meglio riusciamo a portare avanti il nostro progetto. Chiedo un po' a tutti gli amici della fondazione o le autorità o tutti chi vuole che si sente in qualche maniera sensibile a questo argomento di aiutarci. Ringrazio di cuore tutti quelli che vorranno aiutarci per la realizzazione di questo film.